Il piano regolatore di Casale-Cortecerro è stato modificato. Ci sono voluti sette anni di lavoro per arrivare al via libero definitivo da parte del Consiglio Comunale, presieduto dal Sindaco Grazia Ricchetti. C'è stato bisogno di così tanto tempo perché gli uffici tecnici casalesi hanno dovuto mettere mano anche al piano di assetto idrogeologico e ad alcuni aspetti legati al rischio di incidenti industriali rilevanti. Il cambiamento va in una direzione precisa, meno consumo di suolo e più recupero di vecchie aree dismesse. Casale-Cortecerro ha ridisegnato il piano regolatore aumentando dell'1,82% il suolo edificato a fronte di un limite di aumento non superiore al 3%. Nel complesso si parla di un aumento della volumetria residenziale pari a circa 25.000 m3, di cui 13.000 indirizzati al recupero di vecchi fabbricati dismessi o in alcuni casi sottoutilizzati. Nella frazione di Crebbia, ad esempio, di fianco alla chiesa, è presente uno stabile che non soltanto verrà recuperato ma verrà anche ridotto destinando una parte a parcheggi. Altri interventi significativi riguardano aspetti idrogeologici del territorio, nello specifico sulle fasce di sponda del torrente Vallessa. Il corso d'acqua attraversa anche il centro del paese e dopo l'alluvione di fine anni 90 i terreni circostanti erano stati bloccati in attesa che venissero realizzate opere adeguate per la messa in sicurezza. Ora, dopo questa modifica del piano regolatore, i blocchi sono stati rimossi e quindi si potrà intervenire fattivamente. Non si è fatta attendere la risposta della minoranza al termine di un lavoro tanto lungo e dispendioso. Ci siamo sempre espressi a favore della variante del piano regolatore, sottolinea il consigliere di minoranza Paolo Della Vedova, ma ormai è sotto gli occhi di tutti come l'amministrazione in carica si stia trascinando da 13 anni. Ci auguriamo che nei prossimi mesi la Giunta metta mano alle vere sfide urbanistiche della città, come il recupero dell'area Calderoni e la risoluzione della questione a Gezzemani.